A poche ore dall'incidente ha corso gli lungo le coste della stupenda isola di Capri, tifosi napoletani dell'isola Vischia, altra straordinaria perla del golfo di Napoli, hanno invitato il neoattaccante del Napoli, Gonzalo Higuain, a curarsi la ferita rimediata al viso con le miracolose acque curative dell'isola verde, famose in tutto il mondo per la loro efficacia nella cura, tra l'altro, di artrosi e reumatismi. In modo particolare gli hanno consigliato l'utilizzo della fonte di nitrodi, da cui da secoli sgorga un'acqua a dir poco miracolosa per la cicatrizzazione di ferite sulla pelle. Oltre ai tifosi azzurri, ora l'invita Higuain a curarsi a Dischia giunge anche dall'esperto. Infatti il dottore Enrico Ascione, membro del Centro Studi sul Termalismo e profondo conoscitore delle applicazioni terapeutiche delle cure termali disponibili sull'isola d'Ischia, ha dichiarato che effettivamente le acque di nitrodi fanno proprio al caso dell'attaccante argentino. Assolutamente, le acque di nitrodi hanno un'azione dermatologicamente attiva, un'azione che è riconosciuta da secoli, secoli e secoli. L'ischitano sa bene le proprie ferite, come guariscono bene alle terme di nitrodi. Quindi non è solo una battuta o una cosa buttata lì. Effettivamente il razionale ci sa e invitiamo l'attaccante del Napoli a venirci a trovare. L'Isola Verde, quindi, caro Gonzalo, ti aspetta per annoverarti tra i milioni di turisti che ogni anno beneficiano della straordinaria forza curativa delle nostre acque termali.